Castelluccio è il simbolo dell'Appennino colpito dal terremoto, è uno dei luoghi più conosciuti al mondo e probabilmente questo sarà il lavoro più difficile da fare nei prossimi anni, la ricostruzione di questa frazione completamente distrutta con tutti i suoi problemi ma in tutta la sua bellezza, ma è un lavoro che va portato a termine coinvolgendo i migliori tecnici che sono in giro per l'Europa, per il mondo perché questo veramente deve diventare il simbolo di una ricostruzione che rispetti l'ambiente, che viva e che ridia a questa frazione, a quest'ambiente tutta la sua bellezza.